E' il momento della professoressa Licia Iacoviello che ci parla dell'importanza per la società nel suo complesso, oltre che per i singoli individui che siano bambini, adulti o anziani, e sui costi del non vaccinare. Vero professoressa, grazie. Lei tra l'altro è, mi scusi ma ancora non vi conosco tutti di persona, un'epidemiologa. Sì, grazie. Per definizione. Grazie, chiaramente mi associo anch'io ai ringraziamenti al professor Accolla per aver organizzato questa manifestazione che porta un po' il sapere e la ricerca dell'Accademia a un pubblico più generale. Io mi soffermerò in questa mia presentazione nel concetto di perché le malattie infettive, in particolare i vaccini, che sono il più grosso presidio di prevenzione per questo tipo di patologie, hanno un'importanza fondamentale a livello di popolazione e quindi di salute pubblica. e sono un argomento che oltre a riguardare il medico e il paziente, riguarda le politiche sociali e sanitarie di un'intera nazione, per non dire di un intero continente come può essere l'Europa. Quindi ci soffermeremo su perché e qual è l'impatto a livello di popolazione delle malattie infettive per le quali abbiamo un vaccino, perché è così importante vaccinare in un concetto di popolazione sia a livello sanitario che a livello economico e perché delle piccole variazioni delle coperture vaccinali, in fondo parliamo di pochi punti percentuali che sembrano banali, inutili, hanno invece un'importanza fondamentale sempre a livello di popolazione. Questo proprio perché le malattie infettive sono trasmissibili, cioè passano da un soggetto all'altro e quindi da un punto di vista di sanità pubblica hanno un impatto molto più importante di una malattia come l'infarto, di cui noi oggi ci preoccupiamo se volete molto di più. Ma l'infarto riguarda il paziente, pur nella sua gravità, nella sua importanza. Se un paziente si ammala ad infarto, la sua malattia rimane confinata a se stessa, non la trasmette a nessuno, per questo le chiamiamo malattie non trasmissibili. Mentre se una persona si ammala di influenza, di morbillo, di meningite, di poliomelite, questo viene trasmesso e questo concetto, seppur banale, ha invece un'importanza fondamentale. E proprio per questo le vaccinazioni sono state in sanità l'intervento di maggior successo, secondo solamente alla potabilizzazione dell'acqua, che pur ha riguardato fondamentalmente la prevenzione delle malattie infettive. Vedete, noi attraverso il vaccino riusciamo a prevenire fino al 97%, a evitare il 97% dell'incidenza di quella patologia, mentre nella migliore delle ipotesi, con i presidi terapeutici per le malattie non trasmissibili, non riusciamo mai ad arrivare a queste percentuali di salvezza. Ritorniamo un attimo su quello che è già stato detto. Questo raffigura l'impatto in termini di riduzione delle patologie che hanno avuto i vaccini negli Stati Uniti di America, dal momento in cui sono stati introdotti fino ai giorni nostri. Vedete, per molte patologie, quelle più importanti, quelle di cui ci siamo occupati prima, hanno relazionato i miei colleghi il tetano, la difterite, la poliomelite, noi abbiamo raggiunto, vedete, praticamente l'eliminazione, cioè siamo passati da tantissimi casi a zero casi. Queste tiringhe rosse che diventano nere. Per altre, vedete, la riduzione è comunque importantissima, ma abbiamo ancora qualcosa di cui preoccuparci. Quindi vi rendete conto immediatamente da questa figura che l'impatto è veramente drammatico in termini di positività. E questa non è la situazione soltanto negli Stati Uniti, ma vedete in questa piccola tabella c'è che cosa ha rappresentato in Italia l'aver introdotto i vaccini per le varie patologie di cui ci siamo occupati e soprattutto per quei vaccini che sono oggi diventati obbligatori. Vedete, siamo passati da incidenze di 53 casi per 100.000 abitanti, quindi rapportati ai 56 milioni di abitanti che ci sono in Italia a 11 o a livelli particolarmente inesistenti. Vedete, per ognuna di queste patologie abbiamo ottenuto una riduzione dei casi incidenti massimale, dal massimo del 99%, siamo quindi vicino all'eliminazione, a situazioni che comunque, come quella dell'epatite B, arrivano al 50% ma che sono comunque estremamente importanti con un risparmio di malati e di morte veramente impressionante. Ma il beneficio che noi abbiamo avuto dalla vaccinazione non è soltanto di tipo sanitario, cioè riduzioni di malati e riduzioni di morti, ma abbiamo avuto anche un vantaggio economico importantissimo che non ha riguardato soltanto l'infezione, ma anche una serie di patologie croniche o non trasmissibili, come abbiamo detto prima, che a volte nemmeno ci immaginiamo. Abbiamo già sentito che il virus dell'epatite B non provoca soltanto l'infezione acuta da epatite B, ma nel tempo può provocare l'epatite A cronica, la cirrosi, il tumore del fegato e essere responsabili di una serie di terapianti che vengono fatti per questo motivo. Quindi da quando è stato introdotto il vaccino contro l'epatite B, noi abbiamo, vedete, risparmiato in Italia 127.000 infezioni, 14.000 casi di epatite acuta, e fino a qua ci siamo, era immaginabile, ma abbiamo anche risparmiato più di 4.000 casi di epatite cronica, più di 70 cirrosi compensate, 5 cirrosi scompensate, 64 tumori maligni del fegato e 17 trapianti di fegato. Cosa significa questo in termini economici? Vedete, in 20 anni abbiamo risparmato 81 milioni di euro e se facciamo una proiezione al 2056, tra 20 anni e 25 anni, avremo risparmiato più di un miliardo di euro. Vi rendete conto che questo in termini di vantaggio a livello sanitario è importantissimo, perché queste risorse che avremmo impiegato per la cura dell'epatite B e delle conseguenze dell'epatite B possono essere utilizzate in dei contesti molto più importanti. Ma vediamo un altro esempio, ne faccio solo due per questioni di tempo, l'influenza. Abbiamo sentito che l'influenza può essere una malattia, anzi da noi viene considerata una malattia banale, ma come abbiamo sentito dal professor Grossi, non lo è. Qualcuno desidera addirittura avere un po' di influenza magari per fare tre giorni di vacanza al lavoro o a scuola. Io avevo un amico che voleva avere l'influenza nel periodo di Sanremo, e dice così posso stare a casa, tranquillo, a vedere Sanremo. Ma invece abbiamo sentito che l'influenza ha delle conseguenze molto molto più gravi, soprattutto se viene contratta dagli anziani o da persone con delle patologie. Il costo complessivo dell'influenza, se lo considerate non soltanto il costo sanitario, ma anche il costo dell'Inps, delle aziende, delle famiglie, perché chiaramente una persona che si ammala di influenza non va a lavorare, e se si ammala il bambino non va a lavorare perché deve assistere il bambino e così via, in Italia noi lo possiamo stimare di 2,86 miliardi di euro. Quindi vedete, è un costo enorme, che noi non ci potremmo mai immaginare per una malattia che consideriamo così banale come l'influenza. Se noi vaccinassimo tutta la popolazione italiana con più di 18 anni, avremmo una riduzione da 2,86 miliardi del costo dell'influenza o 1,56 miliardi, con un risparmio netto di 1,3 miliardi di euro. Allora pensate come potremmo utilizzare in ambito sanitario questo 1,3 miliardi. Per esempio, avendo la copertura pubblica per le nuove terapie contro i tumori che costano tantissimi e per le quali abbiamo veramente tanti problemi a trovare una copertura efficace. Ora, questo discorso è bellissimo, ma se poi andiamo a vedere che cosa succede in Italia con la copertura del vaccino, vedete qual è la situazione. Se noi consideriamo tutta la popolazione italiana, vedete la copertura vaccinale è veramente bassa, siamo nell'ordine del 20%, e se consideriamo gli anziani, quelli con più di 65 anni, chiamiamoli diversamente giovani, che sono quelli che dovrebbero di più aver paura delle conseguenze dell'influenza, vedete che siamo intorno a livelli che variano dal 50 al 60%, e vedete qui questo decremento in quegli anni critici, 2014, 2015, 2016, che hanno segnato l'allontanamento della nostra popolazione dai vaccini, per tanti motivi che abbiamo sentito, e che hanno provocato come conseguenza l'obbligo vaccinale ai 10 vaccini che poi abbiamo anche contestato. Giusto per darvi un'evidenza scientifica che vaccinarsi contro l'influenza dopo i 65 anni serve, questi sono dati pubblicati proprio di recente sull'efficacia negli Stati Uniti di essersi vaccinati contro l'influenza nelle persone adulte. Vedete, l'ospedalizzazione a causa dell'influenza, l'ospedalizzazione significa aver avuto una conseguenza grave, è ridotta del 50%, quasi a tutte le età, ma soprattutto nell'età, diciamo al di sopra dei 65 anni. Copertura vaccinale, cosa significa? Il numero di persone che sono vaccinate per classi di riferimento. Questa è la situazione della copertura vaccinale a due anni della popolazione italiana negli anni. Vedete, io ho posto il 2004 come riferimento di maggiore copertura vaccinale ottenuta in Italia. Vedete, per alcune patologie, quelle più importanti, avevamo superato il fatidico 95%, che è sì il limite per ottenere il cosiddetto effetto gregge, cioè proteggere chi non si può proteggere, chi non può essere protetto, ma è anche un limite che non permette la trasmissione in generale della malattia infettiva da cui ci stiamo proteggendo. Vedete, per le altre malattie, come per esempio il morbillo, la parotite, l'orosolia, noi non abbiamo mai ottenuto in Italia, neanche nei tempi migliori, la copertura richiesta del 95%, e nemmeno del 90%, che è quella diciamo meno impegnativa, ma ancora considerata importante. E poi che cosa è successo? Vedete, 2014, 2015, 2016, la parte centrale, è cominciata questa idea della paura del vaccino, e vedete che le coperture vaccinali sono scese, a voi sembra di pochissimo, vedete, non si riesce nemmeno a distinguere bene la barretta, ma in termini di danno, a livello di popolazione, lo vedremo, sono scese tanto. Guardate cosa è successo al morbillo, alla parotite, alla rosolia, che già non avevano la copertura, è scesa ancora di più, la varricella, che era pochissimo coperta, guardate qual è l'unica vaccino per il quale siamo contro trend, l'antimeningite. Perché? Perché per la meningite c'è stata una sorta di paura collettiva, e allora questo vi fa capire che quando la gente ha paura, i no-vax non tengono, perché la gente si vaccina anche se non ne ha bisogno. Noi non avevamo un'emergenza meningite, se non in una regione italiana, che era la Toscana, avete visto la situazione della Lombardia, dove addirittura è in decremento il caso di vaccino, però la gente, vedete, si è coperta, e abbiamo avuto un progressivo incremento, l'unica vaccinazione contro trend del vaccino antimeningite. E queste sono le conseguenze del non vaccinarsi. Vedete, questa è la situazione in Europa rispetto al morbillo, questi colori, il colore più scuro rispecchia la maggiore incidenza di casi di morbillo, mentre il colore più chiaro di quest'altro grafico fa vedere qual è la copertura vaccinale. Più scuro qui, più chiaro qui, significa maggiore numero di casi di morbillo, minore copertura vaccinale. Vedete che il problema non riguarda solo l'Italia, chiaramente noi ne parliamo perché siamo italiani e ci sentiamo più coperti, ma riguarda tante altre regioni, forse quelle meno aspettate, perché vedete, riguarda la Francia, riguarda il Portogallo, forse riguarda un po' meno dei paesi dell'est, che noi avremmo immaginato magari più. E anche gli Stati Uniti di America che ci dicono e fanno vaccinare. Come vedete, negli Stati Uniti d'America c'è un incremento drammatico dei casi di morbillo negli ultimi anni, che non dipende sicuramente dal fatto che sono venuti in Italia dove non ci sono i vaccinati, ma hanno un problema anche loro che magari sanno nascondere meglio di noi. E questa, guardate, è la situazione del 2017, quello che ci ha indotto a fare la legge sulla obbligo delle coperture vaccinali. Guardate, abbiamo un triste primato insieme a altri tre paesi che sono gli altri due paesi, l'Ucraina e la Romania. L'Italia è il terzo paese con più casi di morbillo nel 2017. Praticamente questi tre paesi coprono il 75% dei casi di morbillo che ci sono stati in Europa nel 2017. Questi primati non sono auspicabili, sono veramente spiacevoli con un aumento dell'incidenza del 400% del morbillo. Avete visto quant'era piccola la variazione che abbiamo avuto nella copertura vaccinale? Avete visto quant'è grande 400% di casi in più che abbiamo? Quindi anche un per cento conta tanto a livello di popolazione. E questo è quello che sta succedendo nel successo nel 2018. Praticamente questi sono i dati a novembre 2018. In Italia abbiamo avuto ancora 2.247 casi di vaccino di morbillo rispetto al 2017 ma sono ancora tantissimi soprattutto nella popolazione di età intermedia quindi non è una cosa che riguarda soltanto i bambini e vedete tutti questi casi erano non vaccinati il 91% di queste persone non era mai stata vaccinata il resto della percentuale aveva fatto solo un vaccino senza il richiamo e ci avviamo alla conclusione il problema non è soltanto abbiamo avuto il morbillo ma vedete che la metà dei casi di morbillo che si sono verificati hanno avuto delle complicanze quindi hanno avuto qualcosa oltre il morbillo complicanze che in alcuni casi vabbè sono poco interessanti una somatite non si nega a nessuno un po' di diarrea non si nega a nessuno ma vedete che ci sono anche casi di encefalite ci sono anche casi di morte 8 decessi 7 negli adulti e 1 imbambito dovuti al morbillo che è venuto perché non ci si era vaccinati contro il morbillo quindi io concluderei qua vi vorrei lasciare 3 messaggi da portare a casa ricordiamocelo il vaccino rimane anche ora che ci sembra che le malattie infettive non ci siano più la misura preventiva più efficace per ridurre il peso delle malattie in Italia ma noi dobbiamo pensare al mondo anche piccole riduzioni della copertura vaccinale hanno degli effetti drammatici a livello di popolazione e noi dobbiamo essere concentrati su questo non è un problema solo di salute è anche un problema di risorse economiche e di distribuzione equa e giusta delle risorse economiche quello che risparmiamo utilizzando una misura preventiva che ci protegge lo possiamo utilizzare per curare persone che altrimenti non potrebbero essere curate vi ringrazio per l'attenzione grazie professoressa questo serve anche per rispondere al volo a chi dice che noi che siamo SIVAX vogliamo favorire le case farmaceutiche che in realtà guarderebbero molto di più se la gente si ammalasse quindi è una follia